Musica Angelo! Paolo! Ormai è una mattina guardo Mi comincio a preoccupare Mi comincio a preoccupare Musica A lei Marco Vai Dai 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 4.20 Marcello Alessandro Ammassa Pino Bomber Che sbuga Eccolo A mani alzate Pino Grande Dai che siamo arrivati Sì c'è Marco Sì Arrivano Vai Andrei Vai Stefano Ecco Hermes Tre volte la salita Già fatto Incredibile Lì c'è la truppa Che aspetta Il ritorno Del cileno E della Italo-americana Ecco Angelo Che emerge Dal muro Di Torrita Tiberina È un muro Proprio Madonna E gli altri Invece che vengono Da Scorciato Per Cosa Ci Grazie a tutti.